Quella scuola abbandonata, trasformata in luogo di accoglienza e a sua volta trasformata in riscatto e riqualificazione urbana ci ha insegnato tutto, ci ha insegnato la tenerezza, cioè ci ha insegnato un certo sguardo sul mondo, su noi stessi e sugli altri e ci ha insegnato l'ostinazione, la disciplina, la resistenza, la tenacia, la capacità di interloquire con le istituzioni l'importanza che esistano istituzioni che interloquendo siano oneste, siano leali, mantengano la parola data e costruiscano a partire dalla generosità e dalla passione civile diritti e doveri. Martedì 4 ottobre è stato presentato a Torino, presso la libreria Torre Diabele, il secondo libro di Davide Mattiello intitolato La Mossa del Riccio, una sintesi tra una biografia ed un manuale di istruzioni per chi si accosta al mondo della politica in questi tempi. Anche Pino Mascere e Giancarlo Caselli hanno partecipato alla presentazione, sottolineando gli aspetti a loro parere più emozionanti. Le persone come me, lui li definisce Pozzo, l'uomo Pozzo. Lui stesso da sperologo è entrato dentro l'uomo Pozzo, ha cercato di capire, di comprendere, di vivere con l'uomo Pozzo. Lui non si chiede se avessimo potuto fare, lui chiede sempre cosa posso fare, come possiamo fare. Questo è quello che lui ha lasciato dentro di me. L'applicazione della legge è istituzionalmente molte volte violenza, violenza necessitata, prevista dalla legge, ma violenza. Se però si esercita nell'alveo della Costituzione, che è il faro, il punto di riferimento, le coordinate di tutto il ragionamento e del programma di Davide Mattiello e di chi lavora con lui, ecco che la Costituzione ci insegna a muoverci in questo labirinto senza perderci. La mossa del Riccio parla anche dell'inclusione, della capacità di coltivare grandi sogni e dei modelli per dare concretezza a questi sogni che se paiono troppo grandi per l'individuo possono essere perseguiti e raggiunti come collettività. Tutto ciò che si muove per riconquistare il desiderio delle persone è di sentirsi parte di un progetto più grande di loro, ma che anche li comprende e quindi la politica è certamente qualche cosa che va oltre di noi, ma serve anche a noi. Quindi chiunque lavora in questa direzione evidentemente rifonda un po' la nostra democrazia. Duro il monito di Mattiello contro i cosiddetti salvati, coloro che puntano alla conservazione dello status quo. Senza processi inclusivi e una reale democrazia partecipata non ci sarà via d'uscita. Guai all'arroganza dei salvati. Ci sono troppi salvati che guardano il mondo a partire dalla propria salvezza e usano la propria salvezza come misura della realtà. Guai a costoro, bisogna fare politica orientando il proprio sguardo a partire da chi fa più fatica. Allora una politica democratica, una politica cioè che parte dalla sovranità popolare, cioè che riconosce l'uguale dignità di ogni essere umano. Grazie. 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 Grazie.